Politiche attive di rilancio di agricoltura e ambiente ad avviso dei due candidati del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, da Chille Facciolla, tanto è stato fatto sia a livello centrale che regionale. I due candidati ne hanno parlato a Isernia illustrando i programmi e le nuove iniziative del PD su entrambi i settori che potranno trasformarsi in un volano economico per la nostra regione. In questi anni si è fatto un grande lavoro per l'alimentare, l'agroalimentare, l'agricoltura e l'ambiente. Grandi riforme, grandi possibilità per i giovani del sud, per le imprese agricole e i giovani imprenditori. Tanto è vero che è risalita la percentuale di impiegati nell'agricoltura e anche nel settore biologico. Abbiamo un'agricoltura di eccellenza, abbiamo fatto a livello nazionale, abbiamo voluto che ci fosse l'origine dei prodotti e quindi le etichette che dimostrasse l'origine dei prodotti alimentari italiani. Questo naturalmente migliora il nostro export che sta volando. Il settore agroalimentare in Italia, Molisano, sta volando in tutto il mondo. La presenza di Vittorino Facciolla è stata utile a capire anche che aria tira nel PD dopo l'Assemblea dei Mille dell'Ulivo 2.0 che ha indicato a Campobasso Roberto Ruta come candidato alla presidenza della regione. Per Facciolla un errore politico e strategico che lacera la sinistra. Io penso che il comportamento del senatore Ruta non ha giustificazione. Ad una settimana dal voto un esponente del PD che evidentemente poco attento o disinteressato alle ragioni del voto stesso che decide di fare una riunione così particolarmente partecipata per parlare delle elezioni regionali non solo non è rispettoso delle procedure che devono informare i rapporti che ripassano tra il membro di un partito e la segreteria del partito ma credo che abbia anche inquinato in qualche modo il voto sul nazionale che doveva nel caso di specie essere lasciato indenne da altro tipo di valutazione. Ha voluto fare questa scelta. Nessuno di noi si piange addosso. Ci dispiace che l'abbia fatta. Noi abbiamo continuato e continueremo a fare campagna elettorale come se nulla fosse. Chiediamo il voto anche alle 1300 persone che erano presenti l'altro giorno perché non credo che la risposta sia diversamente votare liberi o uguali. Credo che un partito che ti dia e che ti dà a quello stesso partito devi restituire. Mi sembra che gli altri abbiano fatto l'esatto contrario. Hanno preso quando si doveva prendere. Cinque anni fa non hanno neanche attaccato i manifesti con la loro faccia. Bastava scrivere e utilizzare il simbolo PD. Quando invece c'era a tirare la cinghia e si doveva stare in assetto ridare al partito quello che si aveva. Non solo si sono andati via dal partito ma hanno fatto altro. Si sono andati a far paracadutare in altri collegi sulla quota proporzionale sottraendoli ai rappresentanti del territorio. Quindi questi pistolotti di coerenza che possono venire da lì o leva un po' mi fanno rabbrividire.